Ok. Ecco, spero che riuscite a sentirmi e che l'audio riesce a essere trasmesso. Quindi spero che si possa sentire bene. Spero che adesso il canale funziona, scusate per la video precedente. Quindi buonasera a tutti, benvenuti a questo quarto incontro relativo all'educazione, alla percezione del mondo invisibile. Questa sera parleremo del corpo mentale. Vi ricordo per chi si collega per la prima volta che nelle altre selate dedicate a questo tema abbiamo parlato del corpo eterico, del corpo emozionale, del corpo causale, del corpo mentale. E la prossima volta del corpo causale. Quindi andiamo a affondare nel corpo mentale. Sono contento che si senta adesso. Sì, scusate per questo piccolo problema tecnico, ma sembra risolto. E quindi volevo dire che per chi ci raggiunge per la prima volta che è questo il quarto incontro. E quindi lo potete ritrovare sia sul canale YouTube Focus 3.0 a partire di domani, per questo, ma anche trovate gli altri precedenti. E anche sulla mia pagina Facebook Bernarouche Italia. Volevo ringraziare in modo particolare l'Università della Conoscenza, LUX, per l'ospitalità e soprattutto per una cara amica Anna Tamborinitore ed Enrico Ballantini. Grazie di essere con noi. Sono contento di poter condividere questo momento importante perché andiamo a parlare del corpo mentale, ossia di tutto come pensiamo, come si struttura, come lo possiamo percepire. E quindi la serata sarà divisa da un momento di presentazione che vi farò adesso, poi sarà seguito da delle slides con le spiegazioni più dettagliate e dopo ci saranno le vostre domande. Quindi potete già iniziare sulla pagina dei commenti con le vostre domande, cercherò di rispondere alle vostre, spero, numerose domande e infine faremo un esercizio per sentire, percepire il nostro corpo mentale. L'idea di tutto questo incontro è che questa nozione del corpo mentale sia così semplice, fluida che è possibile. Quindi adesso vorrei passare direttamente alla presentazione con delle immagini, spero che vi siete tutti, sì, sembra che tutti ci siano, ci siano. Allora andiamo avanti senza aspettare e vado a presentarvi, ecco, voilà, quindi questo vi presento un po' questo corpo mentale che, come potete vedere dall'immagine, il suo nome sanscrito è Vishnaya, maya kosha, che significa il corpo della conoscenza, ossia è il corpo che permette di conoscere se stesso, conoscere gli altri ed è spesso riferito come il mentale concreto, si ha la capacità di vedere, di prendere decisioni immediatamente, quindi è pieno di sottilezze, è abbastanza complesso come potete immaginarlo, perché pensiamo di modo abbastanza complesso, ma è molto ricco di informazioni. Vedremo quando funziona bene, vedremo anche quando non funziona così bene e il perché non funziona così bene. Allora, prima di tutto vi ricordo che abbiamo già visto i corpi precedenti che sono tutti come delle piccole statue che vanno l'uno dentro l'altra, e quindi il corpo mentale dovrebbe comandare al corpo emozionale, al corpo vitale e al corpo fisico e lui dovrebbe essere a sua volta sottomesso al corpo sopra mentale, che viene chiamato anche corpo causale, di cui parleremo al prossimo incontro. Ma la cosa che è molto interessante è che giustamente lui dovrebbe, è il corpo che dovrebbe trovare soluzioni, come mettere in pratica soluzioni alle aspirazioni, ai desideri di quello che è il corpo causale, che è quello più legato alla nostra anima. In qualche modo è lui che dovrebbe cercare di trovare soluzioni, come si può mettere in opera, ad opera, e le nostre forze per poter arrivare all'obiettivo. Allora vado a cercare, non sono un esperto, quindi vado a cercare di vedere se riesco facilmente a cambiare immagini, spero sì. Quindi, come l'abbiamo visto nelle altre volte, il corpo eterico, ed è molto associato al corpo fisico, perciò ne faccio un tutt'uno, ha bisogno di mangiare, di esercizio, di sonno, di riposo, questo lo sappiamo ed è facile. Il corpo emozionale, è come ci sentiamo, ha bisogno di essere nutrito di emozioni positive, di stima di sé, di passione, di tutto quello che ci fa il sale della vita. Quando passiamo al corpo mentale, lui ha bisogno di fare una cosa alla volta, è una cosa che, ripeterò tante volte, è una sola, è quella che si fa, è quella che si cerca di fare fino in fondo. Quindi, quel corpo mentale, per svilupparsi, ha bisogno di meno distrazioni, perché siamo degli esseri che sono sottomessi da tanti, tanti richieste, e allora, quando il mentale lavora su due cose contemporanee, è molto meno efficace. Chiaramente, le donne hanno un vantaggio perché riescono a farlo facilmente, noi uomini siamo monoprocessore, perciò, una cosa alla volta è quella lì, cerchiamo di farla bene. Ma, in generale, sia per donne che per uomini, avrebbe bisogno di prendere come un espiro, ossia, il mentale funziona a modo di respiro, un momento in cui cerca di realizzare le cose e deve fare una cosa, e poi un ispiro in cui è capace di dire, guardare intorno, che cosa devo fare, e dopo di che ripiomba nella seconda cosa che deve fare. Poi un ispiro, riguarda, e quindi costantemente un andare e vieni. Quindi, in questo corpo mentale ci sono due aspetti. Quello che viene chiamato le idee concrete e poi quelle astrate, ossia, ispiro, manifestazione, quella è la soluzione al problema, ispiro, cerco di riflettere e di vedere se sto facendo la strada giusta. Infatti, in questo, costantemente andare e viene, vieni tra la visione dell'aquila e della formica. Aquila, per vedere in generale dove vuole andare e vedere la sua preda facilmente, e poi la formica, quando uno ha bisogno di tuffarsi completamente in quello che sta guardando e sta cercando di capire. Quindi, è questo costante andare e viene che è motivato da un grande motore che si chiama la curiosità, ossia, curiosità della vita, curiosità di quello che sta accadendo, e questo è il motore formidabile del causale, della mentale, perché proprio ha bisogno di cercare di più, se no, inizia a perdere il respiro e entra in apnea. E quando c'è l'apnea del corpo mentale, ecco che ci troviamo in questo bianco che gli antichi greci chiamavano il lette, sapete questo fiume che separa il mondo dei vivi del mondo dei morti, ed è questo stato vegetativo. Se non lo conoscete, basta mettersi davanti alla televisione e guardare le serie B americane durante 3-4 ore, vi posso assicurare che il vostro mentale sarà un po' piatto in questo senso, perché non c'è più respiro. Invece, per esempio, anche in questo momento che vi sto parlando, sto costantemente cercando le mie idee, che cosa è importante, tra tutto quello che vorrei spiegarvi, che è una marea di informazioni, e quello che vi interessa a voi. E quindi costantemente ispiro, cerco, che cosa è importante, e poi ve lo dico. E se manco questo, non riesco nemmeno a seguire, a poter aiutarvi e a poter interessarvi, perché anche voi, mentre mi ascoltate, avete delle fasi in cui ispirate. Quello che Bernard dice è vero o no? Mi risuona? Non mi risuona. E perché se mi risuona, allora lo approfondisco. Ma c'è costantemente questo andare e vieni, in voi che mi state ascoltando, e in me che sto parlando. E questo andare e vieni ci permette di essere, in qualche modo, in fase nelle nostre... Se invece uno ispira, l'altro ispira, è un po' più complicato. Quindi la cosa che è importante per il corpo mentale, per la nostra salute mentale, è proprio evitare la monotonia. Ha bisogno, costantemente, di una nuova sfida. E questo, una sfida, una riflessione, che possa essere appagante. Quello che gli diamo spesso da mangiare sono riflessioni fino a se stesse con dei problematiche che non si risolvono, che si ripetono costantemente e che questo non li dà da mangiare, non lo fa crescere e rimane lì a media. A media è questo, lo vediamo spesso nei casi di riposo. Basta entrare in una casa di riposo e vedere questo sguardo svuoto di persone che non hanno più un respiro della mente. Perché allora, in qualche modo, quando rimaniamo in apnea mentale, allora inizia il processo di disincarnazione mentale. Il mentale non riflette più di modo coerente e inizia a diventare tanti piccoli processi mentali che creano molte difficoltà di salute mentale. Chiaramente questo è legato alla vecchiaia, ossia non vissuta bene, perché la vecchiaia invece dovrebbe essere un migliorarsi costantemente della facoltà della saggezza interiore. Ma anche quello che può traumatizzare il corpo mentale sono le ferite di infanzia, quando abbiamo dovuto purtroppo sviluppare una personalità che non è la nostra. E quindi nel nostro corpo mentale si crea un alter ego che funziona, vive, ma che non siamo noi, che è l'immagine che vogliamo proiettare al mondo. La vado a cambiare l'immagine, se riesco. Quindi il cervello chiaramente non è il corpo mentale, è semplicemente il modo che noi abbiamo di tradurre quello che ci viene dal nostro mentale al nostro corpo. Ma invece il luogo pensiamo in tanti posti diversi. Infatti spesso ci sentiamo che pensiamo nella nostra pancia, pensiamo di testa ogni tanto, è vero, ma ogni tanto pensiamo anche nel bacino e tante modalità di pensiero. Anche in arabo c'è una parola per dire pensare con la testa e un'altra per dire pensare con la pancia, con il ventre. E questo è una cosa che abbiamo dimenticato. La capacità di pensiero è molto più larga. Infatti in questo momento sto pensando, mentre sto parlando, ed è curioso perché seguo i pensieri che si muovono intorno a me. E questi pensieri sono semplicemente frutto di tutta una dinamica di cui la radiolina si trova nella testa. Allora, per darvi un'idea di com'è il corpo mentale, è un po' come i neuroni. Ossia da questa, quando si vede con l'occhio allenato in lettura dell'aura, si vede come tante strutture così di luce, sono tante idee collegate. E meno male che sono collegate, perché se no io me li dimentico. Spesso per ricordarmi qualcuno, allora ogni tanto mi arriva la sua faccia, o una certa qualità, o un luogo dove vive, e piano piano ricompongo dall'elemento che ho, con la mia memoria, gli altri elementi. E quindi il corpo mentale è fatto da una rete immensa, molto più fitta di quella che abbiamo nei neuroni. Ossia i neuroni non potrebbero a loro, solo loro, conoscere le migliaia di esperienze che abbiamo dentro. Invece, dentro, intorno alla nostra aura, dentro il nostro corpo, ci sono tantissime informazioni, e che anche con la meditazione si riesce ad attingere le memorie, anche mi rendo conto, per esempio, se riesco a ritrovare dettagli di, quando avevo 12 anni, 13 anni, con una nitidezza, e mi dico, ma come è possibile? E invece tutto, tutto registrato dentro di noi. E in questo corpo mentale è fatto a modo di rete neurale. Ora, quello che fa il mentale, come è superiore, quindi capo del nostro emozionale, tutta la parte emozionale nostra, ma anche dalla parte fisica e eterica di noi stessi, allora, in qualche modo, mantiene dentro di sé una immagine di lui stesso, del nostro emozionale, e del nostro eterico. E quindi, un mentale sano corrisponde a queste tre etappe sane. Mi spiego meglio. Nel nostro mentale c'è l'immagine del nostro corpo, ossia, mi piace la mia apparenza fisica, non mi piace la mia apparenza fisica, so che, quello che è giusto, è tutto scritto, è sullo slide, spero che lo potete leggere, so che la mia apparenza fisica non c'entra con il mio valore e la mia abilità, ossia che, so che anche se il mio naso non mi piace, se tra i miei cappelli non mi piacciono come vorrei, non importa, perché io sono di più, ma accetto e mi sono finito per piacere questa mia apparenza fisica. E questo è importante, perché allora si riesce a tramandare bene quello che uno è, in profondità. e se invece l'immagine mentale del nostro corpo è negativa, lo vedremo tra poco, questo va a intaccare anche sulla nostra salute fisica, perché va a intaccare quello che chiamo il mentale delle cellule, ossia anche le cellule hanno un piccolo, piccolo immagine di quello che è i loro pensieri. Allora, la forza di ridire che il tuo viso non ti piace, è chiaro che va a cambiare, perché la tua mente lo decodifica e quindi di saper vedere, anche se non ti piace davvero questo tuo viso, che c'è una bellezza. non so, mi rendo conto forse sarà una mia deformazione, ma è difficile che vedo qualcuno brutto e semplicemente con il tempo lo guardo, lo guardo e trovo la sua bellezza ed ognuno ha una sua bellezza. Sull'emozionale chiaramente lui ha bisogno di sentirsi fiducioso e questo i nostri pensieri devono dare una stima di noi stessi ossia non avere non volere essere perfetto avere rispetto di noi stessi degli altri avere un'esigenza misurata ossia sì posso migliorarmi e questo è ovvio ma piano piano un passo alla volta e poi dopo devo vivo un'emozione me la posso gestire mi sento fiducioso che ce la farò e queste sono cose positive e quello è il suo ruolo il capo perché è un capo dovrebbe sempre dare fiducia alle sue squadre se non dà fiducia il problema diventa difficile e poi il mentale è il capo di lui stesso perché e quindi dovrebbe dirci ecco prendi tempo per te prendi tempo per riflettere per vedere cose sapere sapere che può risolvere i problemi che ha davanti e questo è molto importante sto accogliendo anche tanti ragazzi che studiano che già dall'inizio dicono non vado a trovare la soluzione a questo problema invece gli dico ma non è così mi ricordo che ero un allievo molto in difficoltà e ho avuto questa fortuna di avere un amico che aveva un professore particolare e mi ha invitato a venire con lui e io mi trovavo con lui e questo professore aveva una passione per la fisica e la matematica e me l'ha fatto adorare e ho fatto e sono diventato ingegnere fisico e poi ho fatto due altre lauree perché lui mi ha svegliato la passione della matematica la passione della fisica ma allora mi ha fatto capire che l'importante prima di fare l'esercizio e di arrivare nel buon set la buona forma mentis dicevano i latini il pensiero giusto e questo dovrebbe essere un pensiero positivo dire ce la farò e posso sbagliare senza che questo metta in discussione il mio valore posso sono faccio degli sbagli sto imparando sto crescendo se no non imparerò mai e non sono perfetto e va bene così e questa è una cosa molto importante che il mentale possa ecco avere una visione giusta se invece il mentale non non riesce allora che cosa capita è che non ho mai tempo non riesco a trovare soluzioni ai miei problemi non mi sento all'altezza se non sono perfetto mi sento un disastro e quindi questo è tipico di quello che fa il mentale anche allora i problemi classici del mentale è proprio perché va in troppe direzioni ed è per quello che anche nei tempi antichi il mentale veniva categorizzato in tre tipi allora è un po' come dire è un po' classista ossia c'è il mentale ordinario vi lo tradurre ma in tutte le direzioni il mentale che cerca che impara di una persona che è volontaria ossia che ha la volontà di andare avanti e infine il mentale di una persona che già in cammina e quindi che è già molto più disciplinato interiormente sono tre categorie e posso dire tranquillamente che in lettore della Laura effettivamente si vedono queste tre categorie non significa che una persona è più o meno intelligente non so se mi spiego non è una questione di intelligenza o non intelligenza ma è proprio una questione di quanto diamo sappiamo dare priorità alla nostra vita se i nostri pensieri si accavalano senza che arriviamo a una conclusione è chiaro che perdiamo molto tempo essere volontari significa semplicemente avere la capacità ed è un primo passaggio in qualche modo della vita spirituale avere la volontà di andare avanti e questo significa volersi mettere in discussione con tutto quello che questo comporta ossia le difficoltà arrabbiature contro se stesso contro tutto ma fa parte della crescita e infine quando questa volontà diventa costante allora possiamo diventare diventiamo in qualche modo posso dire discepoli discepoli che significa in qualche modo siamo nella via ossia che c'è una costanza che si è creata e poi dopo ci sono tutti gli stappi per diventare maestro ma questo riguarda i corpi superiori soprattutto lo vedremo la prossima volta ma per adesso credo che sia questo che sia importante mentale in tutte le direzioni mentale volontario e mentale in cammino sia che non c'è solo la volontà ma c'è la costanza e questo fa tutta la differenza e quando diventa uno discepolo significa che la accetta di avere un maestro perché chiaramente essendo discepolo si sottointende avere un maestro spero che sia tutto molto chiaro e poi dopo quando il pensiero è nasce ed è bellissimo su Laura è proprio una cintilla che parte e quindi normalmente dovremo avere un pensiero dopo l'altro chiaramente ahimè i pensieri vanno spesso e si accavalano l'un l'altro e questo accavalamento di pensieri fa sì che inizia una marea di pensieri che crea confusione e il cervello surriscalda con mal di testa con la sensazione di essere preso sotto una torchio e tanti sintomi oppure semplicemente impressione di avere un casco questi sono tutti i tipi di fiersi se vi interessa ve lo spiego più in dettaglio ma ricordatevi di fare domande perché così posso poi rispondere alle domande e così andare sulle sue tematiche che davvero vi interessano e poi queste piccole gentille vanno a vivere la loro vita e diventano quello che viene chiamato forma pensiero non è un termino mio termine mio è un termino di Charles Libiter che ha cognato nel 1905 e che è rimasto da allora sempre come forma pensiero che è una cosa tonda che poi dopo prende delle forme più arricchite non vado a fare tutto un corso sulle forme pensiero perché lì ci vorrebbe molto più tempo ma si creano intorno a noi che vanno a crescere questo l'etrolaura tipica di un mio allievo solitamente spesso lo vedo tra gli allievi sono tipici ossia sono persone non vado a spiegare tutti i colori dell'aura perché sarebbe troppo lungo ma vedete che un pensiero fisso finisce per diventare quella massa viola che potete vedere sul lato e questa massa è spesso una forma pensiero di quello che dovrebbe essere la spiritualità ossia per me essere spirituale significa quello ed è ancora in una tappa della via spirituale in cui pensi che la vita spirituale è esterna a te è un'apparenza è un atteggiamento invece la vera vita spirituale va vissuto dentro ossia è interiore e quindi ogni volta che abbiamo bisogno di un progetto è normale che abbiamo bisogno di esternarlo dentro al torno a noi e lo vedremo tra poco questo vantaggio perché lo vedo lo osservo mi distanzio e permette il respiro del pensiero come l'ho spiegato prima ma per andare dopo questo dovrebbe portare a un progetto una costruzione concreta il problema dei pensieri è che è quando non vengono attuati ossia inizio un'idea la è lavoro la fisso ma poi non la porta alla pratica e allora il pensiero lì diventa ripetitivo perché non arriva il dunque non arriva dovrebbe morire ogni pensiero quando lo attuo lo faccio quindi tutto il tempo di preparazione per esempio di questa di questa serata ecco in questo momento va morire in qualche modo non morire ma trasformarsi perché tutto quello che avevo intenzione di spiegarvelo ve l'ho spiegato e sono contento di quello e posso passare a qualcos'altro invece se ho l'idea di fare qualcosa e poi non la faccio allora il pensiero ritorna toc 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 c'è qualcuno hai fatto questo hai fatto l'altro questo è terribile terribile ma credo che lo conoscete tutti e allora in questo caso il pensiero diventa frantumato vedete in questa immagine chiaramente in cui ci sono tanti pensieri che si accavalano e allora che tendiamo alla fine della giornata sono tanti pensieri che non abbiamo finito e quindi che andiamo a vivere di notte e che diventeranno i nostri sogni ma che invece potremo come dire lungo tutta la giornata potremo iniziare a elaborarli a vederli e a svilupparli anche questi pensieri poi possono si sono troppi iniziare a creare dei modelli di quello che dovremmo essere della persona che dovremmo presentare davanti agli altri come l'atteggiamento che dovremmo avere tante cose di come dell'apparenza e ogni tanto perdiamo la sostanza di quello che siamo ho fatto una lettura di Laura ieri è proprio una cosa molto importante di capire che ogni tanto la nostra immagine è così forte da prendere il sopravvento su di noi a tal punto che non sappiamo più chi siamo cosa vogliamo che cosa è importante per noi perché siamo talmente presi in 10.000 pensieri allora quando vediamo qualcuno non è che pensiamo a quello che vogliamo comunicare all'altra persona ma siamo costantemente cercando di diventare quella persona che l'altro vorrebbe che noi diventassimo e la nostra mancanza d'amore fa sì che spesso ci tendiamo a plasmarsi a quello che vogliono i nostri cari quello che vogliono gli altri invece perdiamo la nostra naturalezza e questo crea un taglio perché allora il mentale comanda invece di servire la nostra coscienza superiore ossia quello che siamo in profondità è il causale e se noi perdiamo questo collegamento allora inizia la piano piano la perdita del nostro viso nel mentale ci sono anche tante memorie ci sono le memorie delle vite passate chiaramente e ci sono anche le memorie dei nostri maestri e questo non mi piace molto come immagine che siamo frutto di un lineaggio io per prima sono stato cresciuto e ho avuto la fortuna di incontrare essere insegnato da tante persone che ritengo maestri di diverse tradizioni budista hinduista cristiana eccetera e mi hanno comunicato il loro lineaggio e quindi tutti noi abbiamo un lineaggio che a sua volta viene da altri lineaggi e che ci arricchisce e questo è il mentale buono perché attingi alla parte più profonda di me e puoi dare di più agli altri perché hai già beneficiato non solo dall'insegnamento e dalle belle cose dei tuoi genitori ma anche dei tuoi maestri spirituali e questo viene tramandato anche a chi poi tu insegni ed è questo ed è una logica che fa sì che l'umanità dovrebbe arricchirsi con gli anni speriamo che ti possa servire chiaramente nei secoli ci sono stati momenti di crescimento dell'umanità ci sono stati altri momenti invece di chiusura ma di grande come l'età media eccetera in cui si è perso un po' questo insegnamento e poi è rifiorito se in qualche modo si dice che l'insegnamento profondo viene nascosto e poi riporta ritorna alla superficie volevo farvi vedere questi questa immagine perché rappresenta proprio queste memorie nel corpo mentale sono come dei vortici ossia sono dei vortici di energia che si manifestano proprio nel nostro corpo mentale e siamo pieni di questi piccoli vortici che vediamo qua che si vanno a manifestare vedete qua sul corpo quindi con i piccoli vortici che si vanno a manifestare in particolar modo in certe zone del corpo e vengono chiamate cristallizzazioni mentali quando un pensiero diventa ripetitivo e si condensa diventa quasi solido allora parliamo proprio di cristallizzazioni mentali che possono fare chiaramente dei danni a livello fisico i dolori spesso le punte che abbiamo dentro di noi vengono proprio da cristallizzazioni mentali e quindi per quello che è importante imparare imparare perché ci permette di mantenere la ginnastica mentale il nostro cervello è pigro il nostro mentale è pigro e quindi ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo esce fuori e ci arricchisce ci rende più grandi in qualche modo e questa è la cosa che bisogna capire e che ci eleva e l'importante per questo è avere capacità di focalizzare una sola cosa e questa è la salute del corpo mentale e quello che gli toglie la salute chiaramente sono i dubbi le interrogazioni perché lui dovrebbe in qualche modo prendere trovare soluzioni la difficoltà che ha il cervello in qualche modo è che dovrebbe prendere decisioni legate al causale quando il mentale la nostra mente pensa di essere regina o re del nostro corpo si scollega dalla parte superiore di noi stessi ed ecco che non prendiamo più decisioni perché la nostra anima che ci permette di prendere le grandi scelte non parliamo delle piccole scelte che queste le fa tranquillamente il mentale le grandi scelte vengono fatte del causale e quando il mentale perde la connessione con l'anima e con i corpi più superiori inizia a incasinarsi a avere confusione terza tappa della mente quindi prima osserva analizza consulta il suo capo e poi memorizza integra ecco quello che devo fare è questo e dà l'istruzione poi ai corpi sotto di fare quando non vengono fatti allora c'è un bruciore perché si crea una tensione una tensione forte e che può creare danni vado veloce il corpo mentale ecco vedete un po' il suo colore giallo giallo che potrebbe idealmente essere un giallo dorato quando è al servizio del causale ossia che la tua volontà sia fatta e non la mia ok questo vi ho fatto l'immagine di una tua laura completa in cui vedete corpo eterico che è quello grigio sopra appena vicino al corpo fisico corpo emozionale quindi tutti i diversi colori intorno e poi corpo mentale intorno il corpo mentale spesso ragiona ma non ragiona nel cervello spesso abbiamo l'impressione di che c'è qualcun altro dietro e questo o davanti o sul lato che con i cinque sensi va a dare indicazioni al nostro cervello ed è spesso notato che quando pensiamo profondamente si stacca in nostra testa del pensiero con la testa fisica quasi come per guardare le situazioni dall'alto per capire meglio la situazione ok vado veloce ci sono anche tre le miscate che fa il respiro del pensiero una davanti e indietro che permette di focalizzare tra analisi concreto poi torno verso la memoria dietro c'è un'altra le miscata che è quella che permette la connessione lassù al causale e anche al corpo quindi su e giù una le miscata su e giù e poi la terza le miscata che è destra e sinistra sono tre le miscate del funzionamento del cervello ma solitamente faccio due giorni di corso sul cervello quindi vi faccio un riassunto molto veloce ecco volevo finire su questo adesso questo è il tema della prossima volta volevo tornare ecco alla visione generale e lasciare lo spazio alle vostre domande che spero che sono numerose domande che cercherò di rispondere vediamo un po' se avete avuto il tempo di fare delle domande beh non ne vedo una o sono stato molto chiaro troppo chiaro non vedo una domanda boh vedo che vi è piaciuto quindi se avete una domanda provate a scriverlo nessuna domanda ok quindi grazie allora passiamo direttamente visto che il tempo passa vorrei passare direttamente alla pratica e ah ecco arrivano come si tolgono le forme pensiero da soli allora eh si le forme pensiero si 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 è un processo di cinque etappe di nascita cinque etappe di quindi ci sono è un processo lungo Ma la cosa più importante è sapere quanto alimentiamo i nostri pensieri e di darci tempi di silenzio, tempi di interiorizzazione per capire meglio che cos'è che stiamo pensando. Chiaramente è un tema molto molto complesso, molto ricco, è un tema per una serata, chiaramente devo accorciare molto i temi, ma la cosa che è importante è capire che il silenzio permette di vedere che cosa è importante, che cosa merita e che cosa non è più importante. Quando nasce una decisione necessaria, quindi, che crea conflitto, dolore e confusione, è bene quindi avere fede che sia guidata a una dimensione animica? Assolutamente. Il mentale ha un difetto che separa tutto, che analizza, pam pam pam, e non sa scegliere. Perché destra, sinistra, vede il pro e il contro, ma alla fine per decidere, per fare scelte, bisogna usare la parte animica di noi stessi, quella parte che non vede bianco e nero, ma cerca di unire. Quando vi mettete davanti a un problema come devo rimanere con lei o non devo rimanere con lei, questo è mentale, non è questa soluzione, significa che è troppo bipolare. Spesso le soluzioni giuste sono quelle che uniscono, lo diceva un grande maestro dello yoga, Sri Aurobindo, che è morto negli anni 50, quando una decisione implica separazione, spesso non è buona, c'è sempre una soluzione, sì, chiaramente ci sono soluzioni, situazioni in cui bisogna separarsi, ma non, anche se separiamo fisicamente, non significa che non vuoi più bene la persona, se hai amato una persona, l'amerai per sempre. E quindi questo amore rimarrà, le vere decisioni prese con la parte profonda dello stesso, sono quelle che vanno a unire, e che vanno a lenire, che vanno a dolcire, questo sì che sono decisioni vere. Come si tolgono le cristallizzazioni mentali? Ci sono corrispondenze con la parte del corpo che crea dolore, infiammato. Allora, quando nasce un dolore, non bisogna lasciarlo crescere, questo perché ogni dolore è una rivolta delle nostre cellule che dicono che non le scassiamo, non gli diamo l'attenzione necessaria. Quindi ogni dolore va ascoltato, ma non con la mente ordinaria, con una mente focalizzata, ossia essere capace di indirizzare la mente senza pensare. E in quel silenzio dei pensieri, il corpo mentale si apre, e arriva il messaggio del dolore. Se noi accogliamo il messaggio del dolore, non c'è più bisogno di avere il dolore, perché l'abbiamo capito. E il dolore si attutisce. Quindi invece di fuggire dal dolore, come facciamo spesso, la chiave si trova nella affondarsi, conoscere quel dolore. Bernard, cosa succede nel cervello tra i circuiti elettrici per le persone che si ammalano di malattie neurodegenerative? Grazie, c'è una comprensione animica. Ok, allora questa è una bella, bella domanda. Aspettate un attimo, vado a vedere se riesco a fare, scusatemi, se riesco a farvi vedere le domande, così posso rispondere ancora meglio. Un attimo, lo faccio dopo. Quindi, la cosa più importante da capire è che c'è dei corsi circuiti. Quando un pensiero è troppo ripetitivo, può creare una piccola ischemia, non vado ad entrare troppo in dettagli, ma va elettrico, è un'energia elettrica che manifesta il corpo mentale, diversa da quella che conosciamo, ma elettrica lo stesso, o sea, simile a elettrica. E quindi ci sono delle troppe tensioni, troppe ansie, troppe... che vanno a creare, che vanno a danneggiare. E più gli anni passano, e più nel suo cervello va danneggiato. se non capisce, se non riesce a risere giovane. E questo che dà giovinezza al cervello è la capacità di essere curioso, di imparare, di non smettere mai di imparare cose nuove. E allora, tutto è possibile. Allora, Bernarda, come... Allora, sto regolando... Anche le cristallizzazioni si possono togliere, sì, chiaramente. Chiaramente ci vuole un po' di tempo, ma... Quindi bisogna semplicemente... Per la cristallizzazione la prima chiave è rendersi conto. Quando io ho un dolore che è molto... Una punta, spesso si manifestano come una punta, spesso sulla schiena, ne abbiamo tanti, questi dolori che possono creare dolori di schiena, problemi nella schiena, sono piccoli cristalli di pensieri. E lì, entrando dentro, sento sempre una frase ripetuta. Per esempio, non sei in grado di fare questo, non ce la farai mai, e così via. E si ripete, si ripete, si ripete, e fa male. E quindi non sei in grado, non vai a ricevere amore, non puoi essere amato, ferite d'infanzia, e così così. E quindi, per dare un esempio concreto, mia madre, quando è diventata amore aca buddista, chiaramente non è che mi sono sentito molto amato, avevo solo 13 anni. E da allora, ogni tanto, quando non mi riesco a amare, abbastanza, si crea una punta nella schiena, a livello del cuore dietro, e la conosco benissimo. Ed è lì, la posso vedere come una difficoltà, ma non lo è. È un aiuto per ricordarmi che in quel momento lì, ho dimenticato di volermi bene. Come posso amare gli altri, se poi non prendo il tempo di amarmi me stesso? e quindi, ogni vostra piccola cristallizzazione ha un senso, un perché. come si fa a focalizzare un problema senza la mente? Si focalizza molto di più senza pensare, perché la mente è attiva quando non pensa, ossia l'atto di pensare è come un muscolo. un muscolo quando si muove agisce, ma il muscolo sta lavorando, non è in tensione. Invece, se per esempio, come quando faccio un tiro all'arco, che tiro? Vado a tirare con l'arco, mantengo senza muovere, è lì che do il massimo di forza, perché sono capace di tenere, muolare la freccia che parte, perché sono nel silenzio del movimento. e allora il muscolo è ancora più forte. Quindi il muscolo del mentale è più forte quando non lavora, perché rimane impassibile. È come un gatto quando sta guardando la fredda, la fissa, durante cinque minuti. Non si muove, niente. Ed è lì che è il massimo della sua concentrazione. Quindi, non è perché pensiamo che allora il nostro pensiero è più acuto. Spesso, anzi, è quando non pensiamo che arrivano i veri concetti. Perché in quel mondo lì il pensiero è proprio l'ascolto anche con il livello superiore, perché arrivano le intuizioni che poi può beccare il mentale, il pensiero e analizzare, ma perché si collega all'intuizione. come si individua la causa di una cristallizzazione? La causa, allora, ci sono tanti metodi, ma quello più semplice è mettere il dito su quel, quella zona che mi fa male. Rimane lì e fare un piccolo movimento di polso, ossia premere, rilasciare, premere, rilasciare. e piano piano con questo, dopo un minuto di fare così, lentamente questo dolore va a ampliarsi, ampliarsi e devo essere concentrato solo su quello e lentamente mi va a ricordare un momento della mia giornata, un momento, un pensiero che ho che va a subito uscire, d'improvviso, ed è quello che è la causa della cristallizzazione mentale. Adesso passiamo all'esercizio perché il tempo vola, piacerebbe rimanere molto a lungo ma vorrei fare un piccolo esercizio con voi, molto semplice che vi intervino molto e così sarà meno complesso perché ci potremo rendere conto della realtà che c'è dietro. Chiudiamo gli occhi un attimo, ora di respiro e lentamente cerchiamo di essere semplicemente presente a noi stessi e vi chiedo di osservare il pensiero e di usare il nostro dito e di cercare di vedere in quale zona del cervello sto pensando o non del cervello lentamente con il dito vado a puntare dove mi sembra che sto pensando ci deve essere un punto lo vado a sentire come formicolio un calore è il momento in questo momento in cui sto pensando quindi ecco l'obbicato sono qua e lentamente sentirete che il vostro dito quando si mette là va a iniziare a muoversi non so se lo vedete su di me e questo è un giro di pensieri che in questo momento sto facendo per parlarvi chiaramente sono obbligato di rallentare perché mi sto toccando il pensiero semplice prendo il tempo di sentire questo pensiero respiro profondamente e vi chiedo cosa cambia dentro di me provate a scriverlo se potete cosa cambia nei miei pensieri quando sono lì presente si muove il pensiero rimane fisso e vedrete che lentamente sento che si crea una separazione tra quello che sono io in profondità e quello che sono io che sto pensando e cerco di individuare chi sono io e che sono diverso dalla persona che sta pensando siamo in due riesco a osservarmi pensando sicuramente se il braccio fa male posso cambiare braccio non è importante e lentamente dovrebbe questa osservazione dovrebbe sciogliere può essere la sensazione della puntura tristezza rabbia tante sensazioni posso anche sentire un cerchio che mi torna la testa come dice Mary è proprio la sensazione di queste sono le paure che si mettono ma semplicemente osservo osservo e mi osservo sono non sono quello che penso non sono solo non sono solo il mio pensiero sono ben altro che il mio pensiero che il mio pensiero respiro e lentamente dovrebbe sciogliersi perché inizio a lasciare andare questa parte di me che pensa e capire che io non sono quello e mi continuo e mi continuo a chiedere chi sono io chi sono evidentemente per sentire che c'è come la pressione di una nuvola di una presenza intorno a me che è tutto il mio corpo mentale ma che non sono io sia io sono di più che il mio pensiero e in quello stato non riesco più a pensare anzi sì ma diversamente perché non è più il mio mentale il re di me stesso che controlla la mia vita ma io è un aiuto penso che è un aiuto ma io dipendo dalla mia anima e la cosa importante è la mia anima che lei mi indica la via il mentale mi dice come farla come attuarla ma non mi devi mai distogliere della mia anima con l'ispiro e normalmente il pensiero si è risolto il badiglio è molto buono si crea uno spazio bianco bianco tra me e il pensiero e questo spazio bianco è il nostro corpo mentale sia una parte di me che sento anche penetrare dentro di me intorno a me dentro di me che sono l'accumulo dei miei pensieri può sembrare che siamo intontiti invece piano piano c'è una saggezza che entra e che prepara l'arrivo di quello che è la nostra anima che è dietro il pensiero che ci permette di capire che la realtà non può più essere deformata da tanti pensieri di quello che vorrei essere di quello che non sono semplicemente sentire la sensazione che io esisto io sono e con queste parole lasciamo venire il suono OM per aiutarci a non pensare solo un attimo e saprete che avete fatto l'esercito bene perché si ferma il pensiero grazie grazie a tutti grazie per questa serata prendiamo il tempo di tornare bene dentro di noi grand'espiro e vi ricordo che il prossimo incontro lo faremo su causale quindi il corpo animico e con questo incontro chiuderemo questo questo passaggio dei diversi corpi sottili che è stato un po' un acceno perché chiaramente non posso fare la stessa cosa che quando faccio i corsi il prossimo corso si farà il 22 giugno 2021 alle 21.30 sempre su Focus 3.0 Lux l'università della conoscenza un grande grazie alla tamborina e torre a Enrico Ballantini e quindi dopo se volete se avete domande se non vi è chiaro eccetera vi ridò le mie coordinate così potete eccola qua Benarouche Italia quindi semplicemente Benarouche Italia dappertutto credo che sia il sito di benarouche.it e quindi vi incontriamo presto se avete domande non esitare e grazie per il vostro ascolto e vedrete che nei giorni che vengono sarete stupiti di vedere che qualcosa è cambiato nel nostro pensiero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti